le 7 del mattino di sabato 9 dicembre buongiorno benvenuti all'edicola c'è una notizia che vi voglio dare subito anche perché l'unico quotidiano che è riuscito a metterla in pagina il messaggero una notizia che riguarda la città di Tivoli dove c'è stato nella notte un gravissimo incendio quando il messaggero ne ha potuto scrivere e parlare si parlava per l'appunto di pazienti evacuati da questo ospedale non c'era ancora ahimè la conferma che ci fossero almeno quattro vittime di questo terribile incendio però mi sembrava giusto farvi vedere appunto lo sforzo dei colleghi del messaggero che sono riusciti comunque a dare la notizia e a metterla in pagina anche se questo incendio si è sviluppato parecchio tardi nella serata ne parleremo probabilmente domani invece questa mattina ripartiamo diciamo così da una delle notizie che erano sulla prima pagina dei quotidiani ieri in particolare quella indiscrezione che aveva messo repubblica a proposito di diciamo così un conciliabolo europeo per portare draghi alla presidenza della commissione europea conciliabolo che partiva diciamo così dalla francia di macon ovviamente torna su questo tema repubblica perché non si abbandona mai diciamo così uno scoop al primo giorno ci ritorna il titolo è questo unione europea si tratta su draghi ve lo dico questa cosa che non si torna mai su insomma non si abbandona di solito uno scoop perché e ve lo faccio vedere subito così giusto come nota diciamo se volete di colore il corriere della sera che questa notizia non ce l'aveva per niente e che evidentemente non ci crede neanche tanto guardate dove relega solo peraltro la smentita ufficiale arrivata dagli ambienti vicini al presidente a pagina 11 in una piccola piccolissima notarella eccola qua la vedete in basso sono sono dieci righe in tutto mario draghi non è interessata la presidenza della commissione europea così precisano fonti vicine all'ex premier punto questo è quello che è la diciamo l'attenzione che dedica il corriere della sera a questa vicenda poi vedremo chi ha ragione ovviamente ma intanto vi dicevo repubblica insiste ci apre di nuovo e dice che addirittura appunto in unione europea si tratta su draghi e sottolinea repubblica l'eliseo non smentisce il piano per l'ex premier alla presidenza della commissione infatti c'è stato solo uno comment quindi effettivamente non c'è stata una smentita nelle capitali europee nessuno pone veti meloni sostiene repubblica sarebbe tentata dal sostegno ma teme salvini mentre tagliani dice noi popolari puntano su von der leyen e soprattutto aspettano i risultati del voto e a proposito appunto di meloni a pagina 3 tommaso ciriaco ed emanuele laurea sostengono che la premier tutelerebbe il suo esecutivo con l'unione europea a guida italiana ma dovrebbe a quel se ci fosse draghi ovviamente ma a quel punto dovrebbe rinunciare ad avere un suo commissario quindi la sua idea è di lanciare l'ex bce cioè mario draghi al vertice del consiglio quindi scrivono i due è un bivio stretto peggio un autentico dilemma giorgia meloni pesa in questione i rischi di sostenere l'opzione mario draghi la possibile frantumazione degli equilibri del centrodestra l'ostilità di matteo salvini l'ombra che gli imporrebbe una figura come quella dell'ex banchiere ma valuta anche un vantaggio ponderandolo assieme a un dato di realtà il vantaggio stringere un patto con chi guida la commissione potrebbe blindare il suo esecutivo assai traballante sui conti il dato di realtà può la premier osteggiare una soluzione che piace non soltanto a emmanuel macron ma anche alla casa bianca e se insomma se le cose stessero davvero così sarebbe effettivamente un bel problema sempre su repubblica viene sentito diciamo così un esponente del centrodestra forse non di primissimo piano come peso elettorale ma importante cioè come maurizio lupi che dice stimiamo l'ex governatore ma non tiriamolo per la giacchetta e poi appunto si insiste si insiste su questa trattativa aperta e sul fatto che in realtà non ci sia davvero nessun veto alla carta di macron questa notizia colpisce molto anche altri quotidiani al di là diciamo del dell'attenzione che gli ha prestato il corriere della sera per esempio il riformista che fa apertamente il tifo perché questa soluzione prenda corpo super mario scrive addirittura poi nel suo editoriale matteo renzi che come sapete appunto è direttore editoriale del riformista e dice per quello che vale l'europa appunto è un bivio o cambia o muore servono gli stati uniti d'europa serve l'esercito europeo serve l'elezione diretta del presidente della commissione serve superare il diritto di veto servono le liste transnazionali serve una squadra che abbia meno di 27 commissari serve qualcuno che abbia la forza e l'autorevolezza di fare tutto questo mario draghi può farcela il riformista fa il tifo per lui ora al di là del tifo del riformista vi sembrava corretto segnalare diciamo così questa tendenza mentre invece ecco a proposito la verità parla più che altro di macchinazioni diciamo che insomma non sembra particolarmente entusiasta no le macchinazioni per portare draghi a capo dell'unione europea e ancora vi faccio vedere il fatto quotidiano dove è il direttore marco travaglio che dedica il suo editoriale a draghi e che come sapete non ha mai amato molto e infatti anche qui la lista è lunga di quelle che diciamo così travaglio considera le inadempienze per l'appunto di mario draghi non a caso anche il titolo draghi salva cose denota diciamo così una sorta di sarcasmo il domani il domani approfondisce diciamo così un po' di più la notizia con francesca de benedetti che scrive però che a bruxelles in realtà ci sono piani diversi altri piani da strasburgo spiegano che l'ipotesi di una sua nomina per il dopo von der leyen non è sul tavolo quindi il domani diciamo così prende sul serio la notizia indaga e però trova altre 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 storie ecco infatti scrive de benedetti questa è l'unica domanda che mi mette davvero in imbarazzo aveva ammesso a novembre il meloniano nicola procaccini capogruppo dei conservatori europei interrogato da domani sull'ipotesi di mario draghi presidente del consiglio europeo quindi evidentemente queste voci giravano anche da tempo se appunto de benedetti già a novembre aveva potuto parlarne con procaccini il nome dell'ex premier però continua la collega di domani è tornato in un retroscena di repubblica che vedrebbe il presidente francese spingere per draghi e la commissione europea non è quello il piano dice a domani una fonte della delegazione francese all'euro parlamento riferisce anche che il rumor non pare arrivare dall'eliseo eppure dall'entourage draghiano arrivano solo smentite su un'ambizione dell'ex premier alla commissione europea uno scenario con draghi al consiglio trova riscontri favorevoli fra i più interlocutori mai ritenuto volatile anche perché il domani fa anche il nome di un altro possibile candidato che è l'olandese mark rutte il quale però scrive ancora domani è stato un po' penalizzato e lo scrive anche repubblica dall'insuccesso elettorale appena conseguito quello che invece ha permesso la vittoria di wilders dell'estrema destra per cui bisognerà vedere come andrà a finire vi segnalo anche visto che stiamo parlando di europa e di candidatura invece sulla stampa un altro nome che in italia gira molto ovviamente non come presidente della della commissione ma come possibile candidato ve lo segnalo perché è un'intervista interessante che è quella di luca zaia che come sapete gode di apprezzamenti come si dice spesso bipartisan e zaia a paolo colonnello sulla stampa dice non mi candido a bruxelles ma sogno gli stati uniti d'europa esattamente quello di cui parlava prima matteo renzi sul riformista il governatore del veneto dice nella unione europea democratica non c'è spazio per fascisti e neo nazi e poi aggiunge al massimo comprerò un cavallo commenta anche la vicenda di giulia cecchettin succede è successa in veneto come sapete dice stato un big bang per le coscienze vi faccio vedere a questo punto visto che stiamo parlando d'europa invece l'altro tema quello che diciamo così ha tenuto banco molto in questi giorni e che ha a che vedere con la questione dei conti è l'articolo è il titolo che faceva ieri l'apertura il corriere della sera e che oggi mette a centro pagina parla di questo accordo a metà sul patto di stabilità dice che l'intesa è vicina ma i negoziati sono sospesi siccome sono le 7 10 noi a questo punto andiamo in pubblicità e poi vediamo che cosa si sta discutendo e perché è così importante dopo la pubblicità 7 15 riprendiamo la nostra edicola allora avevamo visto il titolo del corriere della sera che parlava a proposito della discussione sul patto di stabilità di un accordo a metà dicendo appunto che l'intesa era vicina ma i negoziati sono sospesi tant'è che infatti sapete se ne dovrebbe parlare intorno al 20 di dicembre però questa discussione i termini questa discussione in generale non piacciono molto alla nostra stampa l'unità è molto molto severa parla di un'europa che mette alle strette meloni e scrive ci aspettano dieci anni di sangue e lacrime la citazione sarebbe lacrime e sangue ma insomma va bene scrive davide romoli è un patto capestro per l'italia quello appunto che ancora non è stato siglato ma che manca poco perché accada è un patto capestro per l'italia che dovrà sottostare al diktat della germania e affrontare almeno un decennio di lacrime e sangue altro che il governo monti in fondo il governo monti varava leggi che poi potevano essere cambiate qui no il patto di stabilità resta e peserà come un macigno sull'economia italiana per un paio di lustri ottimismo ottimismo già ma se firma questo accordo il governo meloni lascerà ai governi successivi una eredità avvelenata che cosa è successo la germania scrive ancora l'unità ha ottenuto che al parametro sul deficit quello del 3 per cento del rapporto deficit pil si aggiunga una zona cuscinetto per evitare il rischio che trovandosi a un passo dal limite lo si sfori alla prima crisi in concreto però questo significa che il parametro resta al 3 per cento però i paesi che devono ridurre il deficit sino al 1 i paesi devono ridurre il deficit sino al 1 e 5 quindi il rientro sul debito è un salasso perché 0 5 per cento del pil per i paesi con debito sotto il 60 per cento e l'1 per cento per quelli sopra il 90 per cento le leggi di bilancio in italia dice ancora l'unità partiranno dunque da un punto di pil cioè meno 20 miliardi praticamente la cifra di per sé pari a quella di una finanziaria quindi investire sarà difficile salvare lo stato sociale mettere una pezza al disastro della sanità evitare prima o poi nuove mannaie sulle pensioni sarà probabilmente impossibile stesso diciamo così giudizio negativo è quello che per esempio troviamo anche sulla prima pagina del manifesto che parla espressamente di un nodo alla gola quindi appunto assolutamente niente di buono e per tornare diciamo così al correre della sera andiamo a pagina 9 dove Federico Fubini cerca appunto di spiegarci qualche cosa anche qui e intanto fa i primi conti e sostiene che ci sarebbe una stretta intorno agli 8 miliardi e dopodiché riporta una frase sintomatica dice ieri notte il più efficace nel riassumere lo stato dell'unione europea o almeno delle sue regole di finanza pubblica è stato l'uomo che più ha contribuito a complicare il lavoro per metterle insieme ha detto durante le ore piccole fra mercoledì e giovedì christian linner ministro delle finanze di berlino con questa gestione delle politiche di bilancio resterete in procedura per deficit eccessivo fino al 2031 l'inner pensava a governi ad alto debito e deficit come la francia la spagna e soprattutto l'italia e faceva del sarcasmo ma ha colto un punto con il nuovo patto di stabilità per alcuni rischia di essere quasi più facile fare le manovre di bilancio previste quando si è fuori dalle regole che affrontare la normalità successiva insomma diciamo che non si prospettano tempi facili sicuramente intanto vedremo perché appunto l'accordo poi dovrà essere chiuso intorno al 20 di dicembre passiamo a quelle che sono le altre polemiche in corso non accenna assolutamente a smorzarsi quella che riguarda i presunti finanziamenti della cei a alcune ong e nello specifico a mediterranea che è un tema che sapete ha sollevato la verità oggi avvenire risponde lo fa mettendo già in prima pagina questa risposta e non è diciamo così del tutto usuale come come scelta cei sostegni evite da salvare no ad accuse diffamatorie e la replica è che appunto la cei direttamente non ha mai finanziato le ong lo ha fatto attraverso però le scelte per esempio dei suoi vescovi e comunque lo fa in nome di un impegno appunto della chiesa per combattere l'illegalità con la legalità e sciorina sempre avvenire tutti i soldi che sono stati stanziati che peraltro si possono trovare a bilancio perché lo fa probabilmente perché come sottolinea la verità ieri sull'unità e io non ho fatto a tempo a farvelo vedere perché il tempo era pochissimo ma me l'ero appuntato ma comunque lo recuperiamo oggi cosa è successo che sull'unità il vescovo di modena castellucci aveva confermato che sì lui i soldi all'ONG di casarini li aveva dati proprio perché credeva che fosse giusto salvare per l'appunto i migranti la verità lo rispara nel titolo di apertura il vescovo rivendica sull'unità i versamenti alla banda casarini non è usato a caso ovviamente questo termine è molto denigratorio nei confronti del gruppo di mediterranea però poi belpietro non si capisce con quanto sarcasmo dice che dice non conosce monsignor aereo castellucci vescovo appunto dell'arcidiocesi di modena e non antola però dice devo complimentarmi con lui perché a differenza di altri prelati lui non ha adottato la regola del silenzio ma ha deciso di alzare il velo sui finanziamenti a casarini e compagni e sì infatti rivendicando per l'appunto la sua azione dopodiché la verità si chiede chi dice chissà come sono contenti i fedeli di modena ma forse se sono veramente buoni cristiani non dovrebbero avere niente da dire ma questo non spetta a noi definirlo probabilmente neanche però a belpietro a proposito di profughi guerre io continuo a segnalarvi gli articoli che escono sulla stampa perché secondo me sono fra i più completi e i migliori compresi insomma senza far torta a nessuno ma insomma francesca mannocchi oggi ci ancora oggi ritorna su quella che chiama la guerra dei coloni cresce infatti infatti il numero dei palestinesi uccisi in cisgiordania e sicuramente un altro fronte che si sta aprendo e a proposito invece delle fotografie che mostravano ieri i prigionieri di hamas beh ovviamente c'è stata la risposta ma anche questa non è corretta hamas mostra un soldato morto e israele mette sotto torchio i combattenti catturati a gaza questo scrive per l'appunto la stampa che poi riporta anche invece un'altra vicenda ennesima di antisemitismo voi direte poca cosa una stella di davide sul muro di casa no non è poca cosa perché ricorda tempi orribili e infatti è uno sfregio antisemita così titola correttamente la stampa ad alessandria tre stelle di david sulle case di una famiglia ebrea siamo sconvolti dicono i proprietari mai avremmo pensato di rivivere quel dolore parliamo invece adesso visto che ho la stampa in mano della questione delle pensioni perché è ancora aperta ancora calda c'è stato il 5 lo sciopero dei medici ma la vicenda non è affatto conclusa caccia ai medici italiani da noi 80 mila stranieri scrive intanto la stampa nel suo titolo di apertura perché c'è anche un tema diciamo così di presenze che mancano persi 40 mila sanitari in tre anni arrivano offerte d'oro dalla svizzera dalla norvegia e dalla arabia ma come vi dicevo sulle pensioni la sanità conferma lo sciopero cioè ce ne sarà un altro per evitare penalità 46 anni di contributi questa è la proposta che al momento viene fatta e allora quando poi io leggo invece il titolo di apertura del giornale penso che evidentemente la questione ancora non sia affatto chiusa perché il giornale invece parla delle nuove regole sulle pensioni e dice che sono stati tutelati i medici e poi ecco appunto che cosa cambia evidentemente però se i medici hanno deciso di continuare a scioperare tanto tutelati ancora non si sentono e probabilmente appunto ecco qua bisognerà continuare continuare a parlarne anche se la modifica dice il giornale non intacca i salvi ma non è questo che diciamo così interessa in modo particolare i medici il sole 24 ore diciamo così media le due notizie probabilmente perché dice che diventa più leggera la stretta sulla sanità enti locali e scuole ma evidentemente come vi dicevo non è sufficiente tant'è che lo sciopero è confermato polemiche ce ne sono ancora tantissime oggi sui quotidiani a proposito di quel grido anzi di quelle due grida risuonate nella al teatro alla scala a proposito dell'italia antifascista e dell'abbasso al fascismo che tante polemiche hanno provocato questo è il corriere della sera le polemiche sono perché come sapete sono stati identificati dalla digos in particolare una persona questo collega marco vizzardelli che è quello che ha urlato appunto viva l'italia antifascista è stato intervistato dal corriere della sera e dice in quel momento gli agenti della digos ridevano con me perché io facevo notare loro che avrebbero dovuto eventualmente identificarmi se avessi detto viva l'italia fascista quello sì ma insomma dire viva l'italia antifascista ancora fortunatamente non risulta essere un reato sempre dalla pagina del corriere della sera vi segnalo anche invece quello che è successo a spilimbergo in provincia di pordenone dove per andare a vedere il film comandante un gruppo di persone ha pensato bene di vestirsi da nazisti ma anche pare da soldati inglesi italiani e partigiani solo che pare che i partigiani non abbiano fatto tempo ad arrivare al cinema e questo quindi ha reso diciamo così la cosa forse un po' meno credibile vi dicevo le polemiche però sulla scala ritorniamoci ancora perché in molti moltissimi oggi hanno ironizzato vi faccio vedere per esempio Libero i pagliacci all'opera comiche all'ultimo atto e non è male quello che scrive Mario Secchi che in effetti la butta un po' sul ridere e forse stavolta diciamo per tutto quello che ne è venuto fuori intorno non fallisce il suo obiettivo scrive infatti Secchi il teatro alla scala fa miracoli non solo l'ultimo ma anche il penultimo giapponese è uscito allo scoperto è il partito democratico che dall'esilio di Capri come il fu compagno Lenin ha sferrato una poderosa controffensiva per dare massima copertura all'incursore della serata della prima radio londra ha ripreso le trasmissioni per l'italia la protesta di ieri sera alla scala ha acceso la speranza la liberazione è vicina il fascismo cadrà una flotta di yacht Pershing con a bordo i migliori registi e attori di testaccio sta facendo rotta verso Anzio per lo sbarco insomma il tenore è questo anche il tempo ironizza con una Elish Line che dice tanto per cominciare quello che ha urlato alla scala lo candidiamo subito alle europee invece ecco mentre succedeva tutto questo io ve lo segnalo so che in tanti non hanno nessun interesse a quello che succede nelle carceri però credo che invece sia giusto continuare ogni tanto a parlarne a pagina 41 ci viene raccontata una storia che praticamente nessun altro giornale se non l'unità accenna e cioè che mentre andava in scena lo spettacolo un uomo un egiziano che era stato arrestato da solo un paio di giorni e si trovava nel carcere milanese per l'appunto di San Vittore si suicidava San Vittore che è uno dei carceri dove c'è la massima sovraffollamento e dove i detenuti lavorano senza essere pagati nessuno si lamenta perché pur di fare qualche cosa accettano anche quello. Ultima ultima polemica quella sulla nomina di Paola Concia nella commissione che si dovrà occupare di diciamo così dare indirizzi sull'affettività ai ragazzi nelle scuole bufera su Valditara scrive il Corriere la garante in bilico domani avranno altro su cui vomitare orio spediamo davvero che Paola Concia non si dimetta da questo incarico per il quale invece sarebbe perfette date le sue caratteristiche e anche la sua esperienza. Quasi tutti i giornali parlano degli attacchi che ha ricevuto da destra nessuno o pochissimi fanno cenno invece a quelli ricevuti da certo mondo femminista. Paola Concia insomma si trova fra due fuochi le auguriamo di resistere. 7.30 vediamo allora le ultime novità del telegiornale con il collega Angelicchio. Grazie alla collega Fratello e allora le notizie del telegiornale di oggi certamente andremo a vedere cosa è successo a Tivoli all'ospedale perché il bilancio è di tre vittime oltre 150 pazienti che sono stati trasferiti in altre strutture questo è stato provocato da un incendio divampato nella tarda serata di ieri Tivoli alle porte di Roma e poi andremo a vedere cosa succede a Gaza perché fa discutere certamente il veto messo dagli Stati Uniti alla risoluzione dell'ONU per un cessate il fuoco a proposito di cessate il fuoco l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite lancia un allarme dice siamo vicini al punto di non ritorno e poi c'è un monio dell'Unione Europea a proposito dei nuovi insediamenti e poi si parla di Draghi perché si parla di una sua possibile candidatura alla guida della Commissione Europea al porso della von der Leyen ma lo stesso Draghi a smentire questo è molto altro ancora ne parleremo nel telegiornale adesso diamo la linea però a Paolo Sottocorona per sapere che tempo ci aspetta nelle prossime ore Sì buongiorno questa è la situazione delle piogge previste per la giornata di oggi ce n'è ancora qualcuna sui settori occidentali segnatamente la Sardegna poi vedete a sud sul Nord Africa anche qualche fenomeno intenso poi ci sono fenomeni abbastanza forti al di là dell'arco alpino quindi quella perturbazione la parte settentrionale ancora tocca le zone alpine ma sul versante esterno sul resto del nord del centro meno del sud un po' di grigio qualche debole pioggia ma oltre questo non si va quindi sicuramente non condizioni di maltempo vero e proprio situazione che nella giornata di domani domenica in qualche zona per esempio la Sardegna tende a migliorare quindi la possibilità di qualche debole pioggia c'è medio versante tirrenico alcune zone del nord ma sono piogge debolissime quindi giornate appena un po' incerte forse soltanto sul basso tirreno fra Campania e Calabria zone costiere qualche pioggia isolatamente moderata ma insomma oltre questo non si va e poi arriviamo alla giornata di lunedì in cui potremmo dire cambia ben poco perché sempre qualche debole pioggia qualcuna in più forse in Toscana i fenomeni al di là dell'arco alpino forse ne risente la valle d'Aosta ma lì parliamo di nevicate ovviamente se no tutto resta al di là dell'arco alpino al nord vedete come al solito un po' di grigio qualche debolissima pioggia ma oltre questo non si va le minime di questa mattina tendono a risalire lentamente ma al nord e sulle zone interne del centro sicuramente continuano a essere piuttosto basse ripeto la tendenza lo vedremo poi alle 8 è a salire lentamente ma insomma qualcosa piano piano si può recuperare chiudiamo con lo stato dei mari che sono più tranquilli diciamo quelli orientali adriatico parte dello ionio gli altri però restano a livello mosso localmente molto mosso quindi fra 3 e 4 per intenderci su una scala di 9 quindi moto ondoso moderato se volete ci vediamo intorno alle 7 55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale da più tardi